buonasera ben ritrovati al nostro consueto appuntamento d'incontro questo giro incontro tiziana penco che la presidente del consorzio di tutela della fagiolo di lamone che ringrazio per la disponibilità e ne parliamo a ridosso di una delle manifestazioni più importanti per quanto riguarda questo settore e questa specificità della provincia di belluno che è la festa del fagiolo partiamo da qua perché quest'anno causa covid e non si potrà fare sì la solita buonasera intanto quest'anno la manifestazione nella solita con la classica formula gastronomie mostre stand no gastronomici non sarà non sarà fatta quindi abbiamo deciso di ridurre anche noi però di essere presenti con una mostra mercato quindi l'idea l'idea di presentarci con una mostra mercato dedicata al fagiolo e ai prodotti agricoli del bellunese questa sarà la manifestazione diremo che andremo a coprire quest'anno al posto della classica a tavola nel feltrino il fagiolo che parlato ha cambiato un po la sua anima questa festa perché inizialmente era per la promozione poi diventa totalmente famoso questo prodotto che è diventato una rincorrere la possibilità di degustarlo sì all'inizio era nato proprio come degustazione attenzione infatti anche il titolo il nome a tavola nel feltrino il fagiolo era proprio partito da poter venire nell'altopia sull'altopiano e assaggiare questo questo fagiolo che eccezionale poi la festa si è evoluta quest'anno dovremmo essere alla 31esima edizione quindi l'anno scorso abbiamo festeggiato il trentennale però quest'anno dobbiamo per forza pur di accontentare chiaramente i clienti che sono affezionati e verranno sicuramente ad acquistare il nostro prodotto anche quest'anno ma dare anche la possibilità ai nostri produttori che sono riusciti a seminare quest'anno di poter essere presenti e vendere il loro prodotto si fa questa festa a settembre ma il lavoro parte molto prima ed è questo uno dei lavori che fa il consorzio per la tutela un'attività che parte dalla raccolta degli iscritti che sono quanti noi abbiamo un centinaio di iscritti ogni anno c'è qualcuno che si aggiunge certo ogni anno in seguito a dei corsi di formazione che noi andiamo ad organizzare ormai da 14 anni propedeutici proprio per l'iscrizione al consorzio poi c'è chi decide sono liberi quindi sono assolutamente gratuiti liberi a tutti e con nessuna assolutamente poi obbligo all'iscrizione però c'è che poi si iscrive e parte l'avventura assieme a noi quest'anno c'è qualcuno di quest'anno nonostante abbiamo avuto difficoltà a terminare e ultimare i cinque incontri formativi e quindi abbiamo dovuto soltanto presiedere i primi tre che erano quelli più importanti dedicati alle tecniche culturali e alla difesa delle malattie e alla presentazione delle pratiche di certificazione e della vita del consorzio quindi il 21 di febbraio abbiamo dovuto interrompere però nonostante ciò abbiamo avuto nuovi sei nuovi ingressi quindi sei nuovi iscritti di quest'anno uno di lamont quattro di sovramonte quindi è molto importante questo numero perché a sovramonte ultimamente abbiamo avuto un calo di di iscritti quest'anno hanno recuperato bene e un gruppo di ragazzi di feltre in località arson che hanno messo seminato messo a dimora l'equivalente di 4.500 tutori di fagiolo quindi una grandissima quantità sempre a beneficio di coloro che magari non riescono a comprendere parliamo del fagiolo di lamona ma si va sovramonte si va a feltre come si può garantire l'originalità del prodotto se poi viene coltivato in altri territori perché la l'area certificata comprende 20 comuni 18 comuni della val belluna e del feltrino però ogni anno il consorzio grazie alle aziende controllate e selezionate dallo stesso la semente deve essere ripartire dalla zona di origine quindi dalla mone del sovramonte è ridistribuita a tutti i soci produttori nella val belluna e quindi loro seminano quello che è il frutto originale sì il frutto originale garantito dalla zona di origine e questa è una delle attività importanti che svolge il consorzio di tutela certo è una delle tante e quest'anno una delle problematiche del mondo dell'agricoltura era però poter andare a arare i terreni preparare le fustelle come avete risolto questa quest'anno infatti già marzo in seguito al dpcm del 22 di marzo che era molto era molto restrittivo proprio alcune aziende molte aziende molti associati hanno iniziato a preoccuparsi e anche la sottoscritta chiaramente perché la possibilità di spostarsi e di andare a preparare i campi con i classici lavori primaverili aveva allarmato molti dei nostri associati che non sono aziende agricole attive perché solo per quelle aziende agricole attive era permesso no gli spostamenti per chiaramente le pratiche agricole quindi questi piccoli produttori erano allarmati perché o si spostavano oppure saltava la produzione quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo deciso di chiedere il 24 marzo abbiamo inviato una pec al prefetto di belluno chiedendo chiarimenti circa la possibilità sia di lavorare e di svolgere tutte quelle attività collettive no che il consorzio ogni anno fa ma anche la possibilità per i piccoli hobbisti nostri associati sempre aziende certificate comunque che chiedono la certificazione per la produzione di fagioli gp la possibilità di andare nei campi e spostarsi e quindi preparare il terreno per fortuna è stata è stata puntuale la risposta arrivata all'otto di aprire a firma proprio del signor prefetto il quale ci autorizzava anche grazie alla peculiarità ecco del nostra l'importanza per il territorio di questo importante prodotto igp di attivarci e di svolgere tutte quelle attività compresi i spostamenti delle piccole di piccoli produttori nei campi per la preparazione del terreno abbiamo visto un'immagine che anche la distribuzione del seme è avvenuta secondo tutte le normative rispetto delle normative sì ci siamo trovati rispettando chiaramente le distanze di sicurezza avevamo ci siamo trovati nel nostro punto logistico in località in fonzaso presso il punto verde e quindi con le dovute precauzioni i picchetti esterni dei nostri consiglieri che facevano entrare uno alla volta misure di sicurezza siamo riusciti a consegnare per fortuna la semente era il 28 di aprile una delle problematiche che non è contingente ma che risale a qualche tempo prima è quella di una virus da combattere che il bcmw che voi avete cercato di contrastare e cercate di contrastare con un progetto che si chiama falares del quale abbiamo già parlato parte quando questo progetto il progetto è stato finanziato grazie a dei fondi gall quindi tramite il piano di sviluppo locale nel 2018 è stato finanziato per un valore di 258 mila euro bell'importo per due anni di attività che cosa si fa con questi 258 questi la maggior parte di questi di questi soldi sono dedicati alla ricerca quindi sono è l'università di udine che è il nostro unico partner in questa in questo progetto e diremo è il malloppo più consistente perché esami laboratorio innanzitutto coinvolge nove ricercatori tra patologi fitopatologi ricercatori responsabili di laboratorio per sia per seguire in campo prelevare i campioni fogliari catalogarli eseguire tutte quelle diagnosi screening immunologici e quindi tutta una serie poi di sequenze di laboratorio e che ci porteranno a capire tutto quello che dobbiamo capire sul virus questa battaglia siete ancora a inseguire il nemico oppure si comincia a contrastare no allora l'obiettivo l'obiettivo e questo è molto importante anche perché anzi vi ringrazio per questa possibilità perché spesso tutti non riusciamo arrivare a tutti i nostri associati quindi grazie anche la vostra trasmissione riusciremo a trasmettere quello che è stata l'attività dello scorso anno l'obiettivo qual è fondamentalmente riuscire a salvare il nostro fagiolo di Lamont nelle cinque ecotipi originali da virus e da annate disastrose come quelle del 2012 e quindi riuscire a preservare questa biodiversità storica mantenendo però attenzione un ambiente c'è una produzione un'agricoltura sostenibile quindi cercando di rispettare anche l'ambiente quindi questa è perché questo perché il nostro purtroppo questo gli obiettivi oltre che a cercare di ritrovare delle forme di resistenza nei nostri fagioli per noi è anche importante questo progetto e qui cade a fagiolo l'università cercare anche di capire quali sono quei meccanismi che fanno ammalare la pianta cioè oltre cercare di trovare una soluzione ma anche di capire che cosa scatta nella pianta e come reagisce ai vari virus che può essere portato da qualche insetto possono essere condizioni meteo particolari immagino che sono questi gli studi il virus i virus nelle piante vengono trasmessi da afidi vettori cioè da quegli insetti che pungendo la pianta assaggiando facendo degli assaggi con il con il con l'apparato succhiatorio e trasmettono il virus alla pianta e può anche se ci sono due piante ammalate una pianta malata e l'altra vicina sana anche per contatto possono trasferire il virus quindi le nostre piante i nostri i nostri cinque ecotipi purtroppo a oggi non hanno dei geni di resistenza a questi virus né tantomeno noi vogliamo né i lamonesi hanno voluto in passato agire con degli incroci con varietà resistenti il problema sarebbe già stato risolto però avrebbe potuto cambiare le caratteristiche peculiari del nostro prodotto quindi abbiamo detto no quindi l'unica soluzione che cos'è con questo progetto e cercare di far reagire la pianta non sfuggire al virus combattendo magari gli afidi e quindi andando a inquinare con prodotti fitosanitari trattamenti e quant'altro il nostro ambiente ma di far reagire la pianta stimolandola come dire a attivare tutte quelle resistenze indotte che altrimenti rimarrebbero dormienti quindi perché per il corpo sono gli anticorpi si è un sistema immunitario unità ecco che quindi però si sviluppa e parte quando quando la pianta viene a contatto col patogeno quindi con il virus esterno ed è là il momento di intervenire ea qui il nostro progetto e l'attività che stiamo che stiamo svolgendo per dare che cosa per dare delle dei semi sani si spera un giorno agli agricoltori quindi siete ancora in fase di sperimentazione questo momento sì allora io vi dico un po in breve che molto importante l'attività che è stata svolta l'anno scorso i risultati che abbiamo portato a casa quindi l'attività in campo innanzitutto abbiamo allestito dei campi prova quindi qui e dovete tenere presente che c'è il consorzio con il proprio consulente che fa da coordinamento sul campo tra l'università e le aziende agricole il dottor giuseppe crocetta che ormai è dagli anni 90 che segue la selezione del fagiolo e quindi vengono allestiti siamo sono stati allestiti dei campi prova dei campi prova non sono altro che dei delle parcelle di di campo adeguate a ospitare la prova falares queste questi campi prova sono stati in questi campi prova sono stati seminati dei semi di fagiolo selezionati ancora nel 2016 2017 e 2018 da semi provenienti dall'epidemia del 2012 quindi cosa abbiamo fatto grazie all'attività del consorzio dei collaboratori del consorzio che hanno lavorato gratis prima di ricevere questo finanziamento abbiamo potuto in questi tre in queste tre annate recuperare una base di semi che sono stati per fortuna seminati l'anno scorso a inizio a inizio progetto falares quindi siamo partiti già con una base di tre anni di sperimentazioni precedenti quindi abbiamo recuperato tre anni l'anno scorso chiaramente questi campioni sono stati questi da questi campi prova sono stati analizzati i campioni fogliari che sono emersi quindi controllati analizzati e campionati e risultati abbiamo sono riusciti siamo riusciti a identificare 70 piante su una marea numero molto più elevato 70 piante che potevano essere interessanti per l'esperimento perché lei mi chiederà perché perché però vada veloce perché abbiamo pochissimo tempo perché si sono dimostrati più tolleranti alla malattia bisogna capire il motivo per cui sono riuscite queste piante a rispondere piuttosto che al si e hanno risposto meglio quelle piante che sono partite da semi provenienti dalla coltivazione dell'anno precedente in pieno campo rispetto alla serra quindi questo spiega anche l'importanza del consorzio la tutela del prodotto lo studio sulle malattie che ci sono o che potranno venire ma anche questa possibilità di realizzare un tipo di agricoltura in zone disagiate per questo motivo siete stati chiamati a roma dal fondo mondiale dell'agricoltura dell'alimentazione la fao sì noi siamo stati oltre per questo progetto tramite un nostro associato che collabora con di uno dei dipartimenti della faola monte la monta in partnership che vuol dire alleanza per la montagna ci ha portato ha voluto portare l'esempio del nostro consorzio di tutela davanti a una dozzina di ricercatori provenienti da tutto il mondo che si occupano appunto di tutelare di aiutare i piccoli agricoltori delle zone svantaggiate di tutti i paesi del mondo di montagna e che chiaramente la montagna si sa non può competere con la pianura ha grossi problemi sia per perché ha un ecosistema fragile perché subisce lo spopolamento quindi poca gente rimane in montagna i giovani vanno via il il degrado c'è e non c'è più presidio e tutte queste sono le ragioni che rendono un'agricoltura di montagna in zone svantaggiate molto più difficile e quindi che cosa abbiamo portato noi abbiamo portato l'esempio del consorzio di tutela come espressione diremo di un soggetto che sta portando avanti un'agricoltura è un modello un piccolo modello di agricoltura sostenibile di montagna però sempre con una particolare attenzione alla ricerca ricerca che come nel progetto falare se ci serve sia per combattere le nuove malattie che arrivano ma anche per combattere diremo le cause dovute ai cambiamenti climatici quindi siamo andati giù se abbiamo ci abbiamo presentato il nostro progetto è stato ben accolto ripeto c'erano ricercatori del del nepal del peru niger georgia israele albania canada cioè noi avevamo lì tantissimi eravate lì come e per portare avanti la coltivazione del fagiolo oppure proprio come esempio indipendentemente dal prodotto come esempio esempio di piccolo piccolo consorzio che porta avanti una realtà sostenibile di montagna allora abbiamo trattato il tema molto interessante che è quello del fagiolo di lamon della con la presidente del consorzio di tutela abbiamo spiegato alcuni passaggi di importanza che può avere questo questo consorzio torneremo su questo argomento magari con altre trasmissioni intanto faccio i migliori auguri per una buona festa del fagiolo grazie anche se cambiata e per il lavoro che state facendo con il progetto falares siamo stati con tiziana penco grazie a voi per averci seguito e come sempre buona serata grazie a tutti